Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come rimuovere lo schermo verde su OBS Studio ovviamente per rimuovere questo schermo verde puoi rimuoverlo anche quando stai usando la webcam se hai uno sfondo verde dietro di te. Quindi in questo caso se andiamo sul più e vogliamo mettere lo schermo verde su OBS Studio va su fonte multimediale, facciamo sfoglia e io adesso vado a prendere uno schermo verde. Quindi faccio OK, questo è lo schermo verde, fonte multimediale, filtri, filtro degli effetti più, chiave croma, facciamo OK e basta. Stai fermo così, tipo di chiave, colore, verde, vai chiudi e avvia media e vediamo com'è venuto fuori. Quindi come puoi vedere abbiamo tolto lo schermo verde su un video ma completamente non si vede neanche una linea, un bordo verde su questo effetto, cioè su questo video qua. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come rimuovere lo schermo verde su OBS Studio iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!